Cari ragazzi, oggi sono Ravenna, sono a un chilometro da Ravenna, sono venuto a trovare Climamec, gli installatori specializzati e qualificati per l'impianti a biomassa complessa con il protocollo biomassa sicura e adesso prima di entrare da Matteo, il padrone di casa, che te lo presento, anzi è molto molto gentile l'ospitale, vi faccio vedere un attimino l'abitazione in modo che tu capisca anche perché qui dopo l'utilizzo del protocollo biomassa sicura si va ad applicare un'installazione con caldaia pellet, solare termico maggiorato, puffer e tutto quello che c'è, qui sono i pannelli solari maggiorati e l'abitazione è questa qua come vedi adesso questa è la parte a nord sicché c'è un po' di muschio, l'abitazione comunque è questa qua l'isolamento è abbastanza basso, qui Matteo ha grandi problemi di riscaldamento della casa anzi l'ha acquistata e i padroni di casa prima dicevano che spendevano oltre i 2000 euro per riscaldare un'abitazione di questo tipo, sicché abitazione che si presta molto bene al riscaldamento con impianto a biomassa però complessa, qui i sopralluoghi sono stati fatti, i tecnici hanno fatto bene il loro lavoro e adesso siamo nella fase di applicazione, di installazione appunto della caldaia però andiamo, prima però intro, un bel like, suona il telefono e andiamo come vedi siamo arrivati nel momento proprio perfetto, qua Matteo, wow, ha preparato un piccolo buffet per i nostri installatori mentre Marco della Clevama che sta spiegando a Riccardo le proprietà tecniche di una canna fumaria doppia parente facciamo due parole con Mirko ciao Mirko, ciao come va? bene dai Marco a che punto siamo col lavoro? siamo buon punto dai pian pianino si farà anche lui con la videocamera allora qua, come vedi, la caldaia pellet che abbiamo scelto dopo l'utilizzo del protocollo biomassa sicura è una Peltek 24 con la sonda lambda e il caricatore da 220 kg che Mirko sta installando alcune cose prima di parlare con Marco ecco qua, come vedi il solito ventilatore la canna fumaria è già stata, non dico installata, però intanto è messa in posizione perché quello che si andrà a fare, ecco qua Matteo approfitto, visto che c'è Matteo, intanto grazie prego grazie del suo buffet eh ma noi romagnoli siamo così, alla fine bisogna fare un po' di convivialità esatto però non è una cosa scontata certe volte i ragazzi, poche volte, però non bevono neanche un bicchier d'acqua perché non gli viene offerto no dai, mi sembra corretto comunque essere cordiali con gli operai che comunque vengono a montarmi questo bin di Dio che è lì fuori ecco, quindi sono molto contento grazie Matteo allora io ringrazio Matteo al di là dell'ospitalità anche perché si è fidato vista anche un po' la distanza di utilizzare il metodo un po' che è stato protocollato come protocollo biomassa sicura e qua, come hai visto, i ragazzi sono già all'opera chiedo solo a Matteo un attimino come si sta trovando e così, anche se il lavoro è ancora da finire però hai già un feedback? no, io mi sto veramente trovando bene i lavori procedono abbastanza bene sono molto fiducioso comunque guardando i video, i tuoi video sono molto soddisfatto anche dai tuoi collaboratori quindi sono contento vediamo alla fine ma sono fiducioso al 101% quindi dai, a posto grazie Matteo grazie ancora Matteo dopo facciamo due parole ancora con lui intanto ti faccio vedere, come ti dicevo prima, l'innesto della canna fumaria qui Matteo ha praticato lui i fori poi verrà tutto chiuso sempre da Matteo probabilmente verranno messi anche dei rosoni sicuramente verranno messi dei rosoni qua dove si è passato dalla terrazza si correrà lungo la parete per poi arrivare sopra il colmo della casa con la canna fumaria che come ti ripeto è in doppia parete apposta per evitare poi formazioni di condense e tutti i problemi che possono dare le caldare biomasse installate senza adeguati protocolli torniamo dentro un attimo dai ragazzi facciamo due parole con Marco e ti presento Riccardo Riccardo sta facendo vedere un altro lavoro ti presento Riccardo buongiorno è uno molto buongiorno si se lo vedi è un po' pratico davanti alle telecamere diciamo questo ecco, nei prossimi video lo vedrai abbiamo iniziato anche la collaborazione con Riccardo scusami tecnico molto bravo, molto esperto che battute che sa fare Ugo ti regalo un ciac poi questo verrà tagliato ovviamente ma anche no anche no e ormai è un super attore che lo vedi in Youtube eh i video i tuoi stanno su sempre di più ma tu li spingi no no le donne chiedono anche un voce ah che amidea ho due parole Marco di cosa di cosa stai facendo e stiamo montando una centrale termica ecco la biomassa Mirko sta montando la caldaia sta imprendendo no e qua stiamo assemblando il puffer per poi fare l'allacciamento di tutti i tubi ascolta invece una cosa chiedo a Marco qualcuno mi sta scrivendo su Youtube perché lo chiami puffer si chiama puffer o puffer ma puffer fa schifo sono molto italianizzato puffer è più bello e quindi puffer secondo me è puffer non è puffer però mi piace di più ti hanno chiesto davvero sì 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 insomma non vorrei dire altre cose chiamatelo puffer ok allora adesso mangiamo due robe e dopo scendiamo su qualche particolare tecnico e dopo quindi piadina squacquerone oppa Riccardo Magna Marco Magna Mirko Magna Mauro Magna Matteo grazie grazie Matteo è padrone di casa quindi adesso spengo la videocamera e ci do dentro a te ciao